L'appuntamento è per questo sabato e domenica 23 e 24 marzo con le tradizionali giornate organizzate del FAI quest'anno riflettori puntati su Bellano, ricordiamo paese che ha tenuto la bandiera arancione del touring i volontari del FAI guideranno i tantissimi turisti che siamo certi arriveranno per questa due giorni nella visita alle principali chiese del paese e non solo, cosa si potrà vedere? C'è la chiesa del Santissimo Celso e Nazaro che è la chiesa parrocchiale, poi lì vicino la splendida chiesetta di Santa Marta con questo meraviglioso compianto, è veramente un capolavoro dell'arte cinquecentesca poi le chiese di Bonzeno, Sant'Andrea di Bonzeno con un crucifisso ligno del XIII secolo e il santuario di Lezzeno che è molto amato dai bellanesi e non solo. Ricordiamo che alcuni di questi luoghi non sempre sono accessibili, in questo caso lo saranno appunto proprio grazie ai volontari del FAI e poi visite guidate all'orrido di Bellano non poteva essere altrimenti una delle attrazioni che ha davvero fatto il pieno di visitatori negli ultimi anni e due particolarità da non perdere, due vitali. Anzi direi tre vitali. Allora il primo direi il più importante sotto certi aspetti è il pittore Giancarlo Vitali deceduto l'anno scorso per il quale la figlia Sara con il fratello Velasco altrettanto splendido artista hanno aperto un atelier mostra dove ci accoglieranno e ci spiegheranno l'arte e non solo la personalità dell'artista deceduto. Poi anche il fratello di Giancarlo Vitali, Danilo Vitali, aprirà il suo piccolo negozio di artigiano del rame in quanto è anche un artista, una famiglia decisamente di artisti e lavora il rame in un modo particolare costruendo dei piccolissimi oggetti. Non da ultimo l'ha passeggiata con lo scrittore Andrea Vitali, un profondo conoscitore di Bellano tant'è vero che i suoi romanzi sono ambientati a Bellano con personaggi in gran parte esistiti o esistenti. A questo proposito lui condurrà due gruppi, sabato alle 10.30 e domenica alle 14.30 in visita ai luoghi bellanesi che compaiono nei suoi romanzi descrivendoli e intrattenendo anche sui personaggi particolari e caratteristici. Quindi è veramente un piacere che Andrea Vitali ci fa, come tutti i Vitali che sono a nostra disposizione e come tutta l'amministrazione comunale che devo sinceramente ringraziare per la vicinanza e soprattutto la partecipazione. Grazie per la visione!